Onorevole Everini, approvata definitivamente la legge sul whistleblowing, un nome inglese, per definire un evento che può capitare nella vita di un dipendente pubblico e privato. Di che cosa si tratta? Con questa legge viene tutelato quel cittadino che è dipendente pubblico ma anche privato segnala dei comportamenti illeciti di cui viene a conoscenza che fanno danno alla pubblica amministrazione e quindi alla collettività. Finora c'erano delle norme previste nella legge Severino del 2012, però spesso venivano usati in termini inappropriati queste norme. Invece con questa legge si tutela da un lato chi segnala dal rischio di ritorsioni perché spesso chi ha il coraggio di segnalare fatti veri ha conosciute e conosce emarginazioni. Non vengono presse in considerazione le segnalazioni anonime, però viene tutelata la riservatezza. Quindi noi abbiamo approvato con convinzione queste legge che abbiamo contribuito a migliorare molto dal testo iniziale che aveva presentato 5 Stelle dove erano previste perfino i premi in denaro per chi segnalava le denunce anonime. Perché è un contributo in più questa, è una pratica che in altri paesi funziona bene, che aiuta a prevenire la corruzione, a scoprirla e si inquadra in tanti provvedimenti che in questi anni i governi e il Parlamento hanno approvato contro la corruzione. C'è chi ha sottolineato che la parte che riguarda il settore privato potrebbe essere ancora migliorata in seguito, è così? Vedremo, vedranno negli prossimi anni i legislatori futuri, però oggi è un giorno importante per il Parlamento perché a larghissima maggioranza è stato approvato un provvedimento che si inquadra, come dicevo, nel contrasto serio nella prevenzione alla corruzione e quindi anche se non sarà perfetto è certamente un provvedimento molto, molto importante. È stato un provvedimento, lei lo diceva, ampiamente condiviso nel suo iter e ampiamente votato oggi. Forza Italia ha votato contro. Forza Italia non dimostra mai troppa sensibilità su questi temi, noi abbiamo tenuto una linea coerente e in qualche modo l'ha tenuta anche Forza Italia coerente, eppure al di là adesso di questa osservazione però la corruzione è un problema drammatico di questo paese che colpisce non solo il livello etico, la tenuta morale la colpisce in milioni e milioni di cittadini per bene, di imprese che stanno sul mercato rispettando le regole quindi leggi come questa aiutano anche il paese a guardare con più fiducia alla crescita corretta, sana e di una buona economia.